Ti piace stare in Italia? Tipo stare a casa, è uguale. Tipo se vai in Cina o stare in altre parti, per me è tutto uguale. Tutto è casa. Luca, il suo nome italiano, ha 19 anni e da 10 vive a Roma, nella Chinatown di Piazza Vittorio Emanuele. Ma quanto è sentito qui il dibattito sullo YouSoli? E quanto la cittadinanza italiana è vista come una conquista? Ti piacerebbe diventare italiano? Per me è uguale, se cittadinanza qua o no, non è tantissimo importante. Sono d'accordo come adesso, 17 anni, da scegliere. Poi adesso il problema è che in Italia si vengono tanti stranieri da Africa. Se loro, se nascere i figli qua e prendere il passaporto italiani e diventare italiani, secondo voi siete d'accordo così con loro? A me non sono d'accordo per questo. Faccio la quarta o nove anni? Sono nato in Italia ma sono cinese. Ma ti piacerebbe diventare italiano? No, perché sono cinese e quindi voglio restare sempre cinese. Secondo me, per chi nasce in Italia e che comunque con i genitori che hanno vissuto la vita in Italia, devo dare la cittadinanza. Yan è diventato italiano dopo 19 anni di residenza a Roma. Lui è favorevole allo Yussoli, ma spiega che molti cinesi non vogliono il passaporto italiano, anche perché non è possibile ottenere la doppia cittadinanza. Quindi per prendere quella nuova bisogna rinunciare a quella della Repubblica Popolare. È difficile comunque adesso scegliere, perché la Cina sta crescendo. Quindi la cittadinanza cinese per molti ancora è importante per comunque condurre dei business in Cina. Adesso la Cina ha il foreground, quindi la scelta, quella italiana o per il cinese, secondo me è cinese. E anche per questa donna incinta, in Italia da dieci anni, lo Yussoli non sembra una priorità. Giusto che il tuo figlio nato in Italia diventa italiano? No, a me non interessa. No? Perché va bene cinese, noi siamo cinesi.